Amo sviluppare la mia coscienza per capire perché sono vivo cos'è il mio corpo e cosa devo fare per cooperare con i disegni dell'universo non mi piace la gente che accumula informazioni inutili e si crea false forme di comportamenti plagiata da personalità importanti mi piace rispettare gli altri non per via delle deviazioni narcisistiche delle loro personalità ma per come si sono evoluti interiormente non mi piace la gente la cui mente non sa riposare in silenzio il cui cuore critica gli altri senza sosta la cui sessualità è perennemente insoddisfatta il cui corpo si intossica senza sapere apprezzare di essere vivo il cui corpo si intossica senza sapere apprezzare di essere vivo ogni secondo di vita è un regalo sublime ogni secondo di vita è un regalo sublime mi piace invecchiare perché il tempo dissolve il superfluo e conserva l'essenziale il tempo dissolve il superfluo e conserva l'essenziale non mi piace che i perretaggi infantili trasforma le bugie in superstizioni non mi piace che ci sia un papa che predica senza condividere la sua anima con una papessa non mi piace che la religione sia nelle mani di uomini che disprezzano le donne amore collaborare non competere amo collaborare e non competere amo collaborare e non competere ogni secondo di vita è un regalo sublime Amo collaborare e non competere Mi piace scoprire in ogni essere quella gioia perenne che potremmo chiamare Dio interiore Dio interiore Non mi piace l'arte che serve solo a celebrare il suo autore Non mi piace l'arte utile per guarire Non mi piacciono le persone eccessivamente stupide Mi piace tutto ciò che provoca il sorriso Mi piace tutto ciò che provoca il sorriso Amo affrontare volontariamente la mia sofferenza Ho l'obiettivo di espandere la mia coscienza 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 Grazie a tutti